Il vice allenatore di Raul Bertarelli sarà William Sala che è ai nostri microfoni. Allora, nuova esperienza dopo quale nei dilettanti, un grande passo nei professionisti? Sì, un grande passo nei professionisti, per questo devo ringraziare innanzitutto la società, il presidente, tutto il direttivo e a Raul Bertarelli per la scelta che ha fatto nei miei confronti. Adesso bisogna solo lavorare sul campo e dimostrare tutti i giorni il proprio valore e cercare di fare il meglio possibile per ottenere i risultati desiderati dalla società. Che gianna vedremo? Come ha anticipato Raul, stiamo lavorando, una gianna giovane, diversa, con una struttura fisica diversa rispetto agli altri anni, giocatori giovani, molto probabilmente più sbarazzina e più aggressiva, più cattiva. Obiettivo? Ah, non lo devi chiedere a me l'obiettivo, vediamo. Se fosse per me domenica dopo domenica, vediamo quello che succede. L'importante è lavorare bene in settimana e andare sempre al 150%.